Preghiera della Sera Signore, Tu che scruti il mio cuore e vedi in profondità la mia miseria e i miei peccati, donami al termine di questa giornata la grazia della conversione, affinché io possa, come i Tuoi Santi, testimoniare con la vita e la parola il Tuo Vangelo a tutti i fratelli che incontrerò domani. Amen.